Franco Fortini è stato uno degli autori più importanti del novecento letterario italiano ed europeo. È stato poeta, scrittore, saggista, traduttore, polemista, animato sempre da un lucido impegno politico. Fortini è entrato in relazione con i maggiori esponenti della cultura contemporanea. Il centro interdipartimentale di ricerca in storia della tradizione culturale del novecento che gli è intitolato è nato nel 1995, un anno dopo la sua morte, a seguito della donazione della biblioteca di Fortini e del suo archivio privato alla allora facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena. Alla direzione del centro si sono avvicendati negli anni studiosi di questa università, Giuseppe Nava, Stefano Carrai, Roberto Venuti. Da quest'anno l'incarico di direttore è stato assunto da me, io sono Niccolò Scaffai, insegno critica letteraria e letterature comparate al Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Siena e insieme a me a dare impulso all'attività del centro sono il coordinatore Luca Lenzini, direttore della biblioteca di area umanistica di questa università e curatore di saggi ed edizioni fondamentali di Fortini ed Elisabetta Nencini, a sua volta studiosa e archivista del centro. Il lascito di Fortini comprende molti materiali, manoscritti, disegni, pitture e un vastissimo epistolario che testimonia della ampiezza e della qualità delle relazioni intrattenute da Fortini con numerosi e importanti corrispondenti italiani e stranieri, da Roland Barthes a Giorgio Bassani, da Norberto Bobbio a Italo Calvino a Giulio Inauti, i maggiori poeti insieme a lui del novecento e del secondo novecento in particolare, da Montale a Caproni a Luzia a Sereni a Sanguinetti e ancora molti altri autori e autrici. A queste lettere si aggiungono circa 3000 autografi e poi di aria, agende, tacuini, testi di conferenze e lezioni e raccolte di materiali vari. Lo statuto del centro prevede certo la conservazione di questi documenti ma anche la promozione di iniziative scientifiche e culturali che valorizzino e situino nella contemporaneità, direi quasi facciano vivere questi materiali. Per questo insieme alla cura dell'opera di Fortini e allo studio del suo lascito materiale e culturale il centro ha anche delle finalità parallele. Il coordinamento di studi e ricerche sul patrimonio documentario e archivistico della biblioteca di area umanistica dell'Università di Siena, dove ha materialmente sede l'archivio di cui fanno parte, oltre al fondo Fortini che ho brevemente descritto, i fondi di molti altri studiosi e autori, Bellosi, Bianchi Bandinelli, Bordini, Landolfi, Barronchi e Renato Solmi, tra i tanti altri. Ancora tra le attività, tra le vocazioni direi del centro, ci sono l'elaborazione di progetti di ricerca sulla tradizione letteraria, artistica e culturale del Novecento, la organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, mostri, la collaborazione con i dipartimenti umanistici sia della Università di Siena, anzi delle Università di Siena, sia con istituzioni accademiche e di ricerca nazionali e internazionali. L'allestimento di edizioni e strumenti di ricerca in formato cartaceo e digitale, in particolar modo, ricordo che al centro fanno capo una collana editoriale e due riviste scientifiche, l'Ospite Ingrato e l'Ospite Ingrato Online, entrambe prendono il titolo da quello di un'opera famosa di Fortini. Ecco, grazie a queste attività il centro Fortini con il suo archivio è oggi un'istituzione riconosciuta a livello internazionale, è partner per progetti di ricerca di molte università in Italia e anche all'estero e del resto i membri del suo comitato scientifico sono studiosi e studiosi che provengono anche da sedi accademiche e istituzioni di ricerca di paesi esteri. Ma oltre a questo, e vorrei dire forse ancora più di questo, il centro Fortini è diventato, ha pienamente compiuto, diciamo, la sua vocazione ad aggregare e far maturare insieme molti giovani studiosi e studiosi, laureandi e laureandi, dottorandi e dottorande, che provengono certo dalle università senesi ma anche da molte altre sedi e proprio qui al centro muovono i loro primi passi nella ricerca, magari affinano competenze già sperimentate e comunque grazie ai materiali del centro portano a termine e pubblicano i loro lavori sotto la supervisione di chi al centro lavora a cominciare da Luca Lenzini ed Elisabetta Nencini, che ho ricordato. Studiare qui, poter sfogliare, leggere, vedere, direi anche materialmente, tangibilmente, sentire questi documenti, le lettere, le autografi, i disegni, poter consultare i libri appartenuti allo scrittore è una risorsa insostituibile per appassionarsi alla conoscenza letteraria e per farsi le ossa nella ricerca di prima mano. Di più è anche, direi, un modo per entrare in contatto diretto con la voce, con le idee di alcuni dei maggiori esponenti del Novecento per capire come si sono formate le loro opere e in che modo questi loro scritti entrano in rapporto con l'esperienza personale e storica. Grazie a tutti.